L'episodio inizia con Caped e Magman che provano la danza che Chalice gli aveva insegnato per convincere non lo ricorda gli dei biscotti, ma falliscono miseramente. Tra i due fratelli nasce una diatriba, Magman ce l'ha ancora con Chalice per averli mandati in prigione, ma Caped la difende affermando che è un'ottima amica. Manco a volerlo Chalice si presenta al Cottage, dicendo in primis che è dispiaciuta per aver abbandonato i fratelli Tazza alla fabbrica condannandoli a stare per il diverso tempo nel vecchio Uba Duba, e in secondis che ha bisogno di un posto dove nascondersi dalla folla inferocita che aveva raggirato due episodi fa. E dopo aver convinto col suo fascino nonno bricco, la calicetta rimane nel cottage. Tuttavia si annoia terribilmente vedendo che l'unica attività di svago di Caped e Magman è cavalcare la capra e lasciare che la capra li cavalchi. Così li comincia a prendere la vecchia auto di nonno bricco per andare in città ad una gara di ballo. E dopo essersi distratti a vedere in cielo Hildaberg, chi non lo farebbe, e investiti da un rifacimento del treno del Moriant Express, i due raggiungono il luogo della gara e vincono. Piccola curiosità, questa scena ricorda molto quello che si vede in un corto di braccio di ferro, di cui mi dispiace dirvelo, non ricordo il nome. Chiedo Venia. Tornati al cottage, Magman ha dei sospetti. Se Chalice era ricercata dalla folla inferocita, come mai quando sono andati in città non c'era nessuno che la cercava? A quel punto la calicetta confessa di aver mentito sulla folla inferocita perché ora sta in compagnia delle tazze. Peccato che si riveli un'altra bugia, visto che poco a Europa giunge la folla inferocita che reclama la sua testa. E dopo essere usciti di casa per evitare di svegliare nonno bricco, Magman cerca che convince la folla ad esistere a farsi giustizia da solo. Peccato che durante il discorso Chalice scappi di nuovo. La folla, pensando che era solo un piano per farla scappare, decide di prendersela con Cap ed è Magman, ma ad un tratto una clava fluttuante li picchia a morte e presa dalla paura scappa via. Alla fine si scopre che era Chalice e i due fratelli capiscono che lei può tramutarsi in fantasma e appesa alla notizia vanno KO con un suono uguale a quello che sentiamo quando sconfiggiamo i boss del gioco. Fine. Naturalmente puoi nasconderti qui dalla folla, signorina Chalice. Oh, ecco qua, prendi un biscotto. Oh, quanta delizia!